Il Fredo Leon è arrivato alla prima partita seria e l'ha risolta il Fredo Leon. Allora, grazie mille prima di tutte queste belle parole, però credo che l'abbiamo risolta in un gioco di squadra. È chiaro che qualche elemento ci devono fare un po' più individuali, però il senso che ho avuto questa partita è stato proprio sotto la base del gioco di squadra e sono molto contento di come ognuno ha portato la sua parte individuale, l'ha messo in campo e dopo ha uscito quella collettiva. Adesso la Polonia ha l'Italia, molti dei ragazzi dell'Italia li conosci, Simone ci hai giocato tanti anni. È un bene o un male per te? Questo è un bene. Io sempre provo a trovare il lato positivo di ogni cosa e sempre dico allora, sicuramente sarà una bellissima partita da vedere e da giocarla e io come sarò dentro a giocarla devo andare a divertirmi. È l'unica cosa che c'è lì in testa, io devo andare lì a divertirmi e a fare il meglio possibile. Ma anche adesso ti stai divertendo o ti vedo sorridente come poche volte? Questo è un momento unico, penso che per ogni sportivo. Essere in Olimpiade è una cosa che non è per tutti. Allora, già se siamo di qua, almeno dobbiamo divertirci un po'. Nel villaggio come stai? Le condizioni sono un po' complicate, però niente che non si può gestire. Per me non è un gran cosa di che, soprattutto che sono lì al blocco nostro, vado faccio colazione, pranzo, merenda e cena e ritorno al mio blocco. Basta, non faccio tante girate cose, perché tanto già lì dentro dobbiamo fare tante passeggiate. Passeggiata. Tanto lavoro. Sì, sì. Lì c'è la passeggiata per andare a mangiare cosa, non è dei cento metri, non è di più. Grazie. Grazie, in bocca al lupo, pure se giochi con l'Italia. Grazie mille. Andaggio fu.